A lei che si sta agitando, buongiorno a Rosario D'Archivetti di Feder Consumatori. Ma dovreste essere contenti questa volta l'autorità di l'incontro all'indigente dei consumatori? Mi è piaciuto molto l'attributo puro, sì, puro nel mercato tutelato, perché il servizio che avete fatto è splendido, ve lo dico francamente. Grazie, brava a Cristina Conforte. Perché così le famiglie italiane sul mercato libero sono di pronta a dei comportamenti allucinanti, raggiri, servizi non richiesti, addirittura ci sono quelli che vanno negli androni dei caseggiati a prendere i nominativi delle famiglie e gli vanno il contratto dell'energia. C'è poca chiarezza, poca trasparenza, ti dicono una cosa all'inizio e poi vengono da noi a lamentarsi perché effettivamente poi le tariffe vanno in maniera incredibile ad aumentare nel giro di qualche mese e allora ci ritroviamo con un mercato che dicevo, poco chiaro e poco trasparente, raggiri e inoltre un bel 20% in più. Ma scusate, ma uno Stato come si deve, un governo come si deve, ti dice ai cittadini, andati in un mercato poco chiaro, poco trasparente, con un aumento delle bollette del 20%, ma dove siamo? Infatti il governo questa volta ha ascoltato la voce dell'autorità e ha deciso di far slittare di tre anni l'obbligo per le piccole e medie imprese e per le famiglie di passare appunto al mercato libero nel settore dell'energia elettrica e del gas. E dobbiamo anche stare attenti ad una cosa, spesso e volentieri noi avveriamo dei contratti che ci vengono proposti magari con telefonate a martello, di cui parleremo fra un attimo con Rosario Trefiletti, senza accorgerti che ci stiamo veramente mettendo nelle mani di un nuovo gestore. A volte basta un assenso, non c'è neanche bisogno di una ricevuta cartacea da rinviare, a conferma di aver sottoscritto o meno un contratto. A cosa dobbiamo stare attenti a questo punto, Rosario? A noi non piace questo sistema solo del supporto tecnologico, della telefonata e via dicendo, ma questa è, fino a quando non la cambieranno e noi vogliamo che la si cambi. Però c'è da aggiungere che bisogna che queste telefonate di supporto tecnologico dove tu dici sì o no, devono essere accompagnate comunque da una dichiarazione cartacea che tu hai voluto quel contratto con quelle caratteristiche. La carta non va più di moda a Trefiletti però. No, no, in questo caso, sono d'accordo nel risparmiare la carta, ci mancherebbe altro. No, 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 in questo caso io non mi fido di chi ti dice, come diceva giustamente Perego prima, che ti danno un'offerta a 6 centesimi per quanto riguarda il kilowattore e poi invece te lo ritrovi a 30-35 con delle bollette pazzesche. È un mercato dove c'è il raggiro quasi istituzionale. Stafolani, c'è bisogno mai di decidere immediatamente, fatevi mandare le carte, leggete le proposte, perché alcune proposte in base ai propri profili di consumo possono essere convenienti, ma bisogna essere consapevoli delle proposte. Verebbe da dire, aspettiamo le liberalizzazioni davvero che entreranno in vigore fra tre anni a questo punto. Sì, però io ho una richiesta da fare all'autority. Queste multe che l'autority fa quando ci sono comportamenti anomali, sbagliati, raggiri, truffe e via dicendo, non sono più sufficienti. Bisogna che il Paese abbia un segnale molto chiaro. Se ci sono aziende che continuano a raggirare, soprattutto persone anziane, pensionati o che altro, caro authority, gli si toglie l'autorizzazione a operare in un mercato che deve essere chiaro e trasparente. Quanti contenziosi ci sono in attivo adesso? 90.000? Sì, 90.000 contenziosi, ma stiamo veramente scherzando. Non va avanti la liberalizzazione, perché noi siamo per la liberalizzazione, proprio perché ci sono questi raggiri incredibili. Allora mettete a posto le cose. L'autority c'è? L'autority c'è, ma deve essere un pochino più, diciamo, determinata. L'autority c'è, c'è anche per i consumatori, se vogliono chiamare c'è un numero verde per ogni dubbio, 800-166-654, per ogni dubbio, anche sui contratti non richiesti, cosiddetti, c'è l'autority che vi può dare... Grazie a Sandro Stafolani, grazie a Rosario Trefiletti, grazie a...